Sembravano due comunissimi tipi da spiaggia che si recavano a Barcola per godersi la giornata di sole, ma le loro intenzioni erano tutt'altre. Il loro obiettivo era approfittarsi dei bagnanti che avrebbero lasciato i loro zaini e le loro borsi incustoditi. I carabinieri di Barcola hanno arrestato due cittadini burgari di 50 e 53 anni. I ladri, vestiti in bermuda, t-shirt e infradito, proprio come qualsiasi altro bagnante, giungevano a Barcola non per stendersi con l'asciugamano e prendere il sole, ma per individuare gli zaini e le borse incustodite per rubarne il contenuto. Uno dei due faceva il palo all'interno della pineta, l'altro furtivamente aveva il compito di avvicinarsi agli zaini e con nonchalance rovistare all'interno per rubare cellulari e portafogli. I ladri però non sono riusciti a passare inosservati, tant'è che un passante ha attirato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri che stava svolgendo la quotidiana per l'ustrazione della riviera barcolana. Uno dei due bulgari, a cortosi dei militari, ha mollato l'area furtiva e si è diretto verso l'amico che faceva da palo. I carabinieri però hanno raggiunto entrambi bloccandoli, con anche il supporto di altre due pattuglie da Duino a Orisina, i due sono stati accompagnati in caserma. Le testimonianze dei passanti a Barcola hanno invece permesso di ricostruire la dinamica dei furti. All'interno di uno degli zaini dei bulgari sono anche stati trovati arnesi come forbici, coltellino multiuso, fascette e nastro adesivo. I due ladri, con precedenti e con divieto di ritorno del comune di Trieste che pendeva su di loro, sono stati arrestati per furto aggravato e rinchiusi al coroneo.